nulla hanno potuto fare i soccorsi nonostante i tentativi di rianimazione per salvare la vita a Ulderico Vedovato andato a impattare alla guida della sua auto contro il bordo in cemento di un piccolo ponticello lungo via Castellana a Scorzè il 51enne è uscito di strada questa mattina alle 8 ma io intorno saranno state più o meno le 8 ho sentito un colpo di clacson e il gran botto perché la macchina si è stampata praticamente sul passaggio lì poi sono uscito c'erano molte macchine che cominciavano a fermarsi però penso che sia deceduto sul colpo un malore probabilmente non lo so nessun veicolo è stato coinvolto nell'incidente sull'asfalto nemmeno una traccia di frenata una fuoriuscita anomala in una via che la vittima conosceva bene poco lontano vivevano i genitori l'auto è uscita di strada dopo una curva visibile la lunga scia lasciata dalle ruote nell'erba del fosso prima dell'impatto sul cemento in un tratto diventato rettilineo la polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi per determinare le cause del sinistro forse causato da una distrazione o da un malore il 51enne è rimasto dentro all'auto ribaltata fino all'arrivo dei vigili del fuoco intervenuti da maestre mirano assieme al personale del suem ulderico vedovato era padre di due bambine originario di scorzè era molto conosciuto anche per la sua grande passione la musica suonava il basso per brani musicali di jazz funky e blues lavorava come tecnico alla bortoletto bmc di scorzè società di manutenzione impianti che spesso lo mandava anche all'estero per la sua competenza sul luogo della tragedia è sopraggiunta anche la compagna che non ha potuto trattenere il pianto